Lady Gossip è pronta per darci un contenuto esclusivo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Carissimi spettatori, entrate nel giuisimondo delle storie intriganti dalla casa del grande fratello. Oggi vi immergiamo nelle profondità di una situazione che tiene tutti col fiato sospeso, la complicata relazione tra Greta e Mirko. Una dichiarazione shock di Greta ha fatto scalpore, non ci tornerei mai, sono seria. Ma cosa si cela dietro questa freddezza? Scopriamolo nel corso di questo avvincente video, iscriviti ora per non perdere nemmeno un dettaglio di questa saga appassionante. Greta Rossetti, la nuova concorrente del grande fratello, ha rifiutato categoricamente un riavvicinamento con Mirko Brunetti in un acceso dibattito con Fiordaliso. Greta ha spiegato le sue ragioni, svelando un passato che sembra ancora influenzare le sue scelte. Ma cosa pensano i fan di questa decisione? Le attenzioni di Greta verso altri coinquilini, soprattutto Federico, hanno suscitato critiche e polemiche sui social. Gatta morta ad Angelica, è il giudizio di alcuni, mentre altri vedono la situazione come una mossa strategica nel gioco. Qual è il tuo parere sulle attenzioni di Greta verso Federico e gli altri concorrenti? Ma c'è di più. Nonostante la freddezza verso Mirko, Greta sembra avvicinarsi ad altri concorrenti come Federico e Vittorio. Le interazioni provocatorie e le dolci attenzioni non sono sfuggite agli occhi degli spettatori. Ma quanto di tutto ciò è spontaneo e quanto è orchestrato dagli autori del grande fratello? Le opinioni sono divise, e le teorie sulle manovre dietro le quinte alimentano il dibattito. Se vuoi più aggiornamenti su Greta e il grande fratello, lascia un like e iscriviti subito. Rimani con noi per gli aggiornamenti più recenti. Ricordati di lasciare un like se hai apprezzato il video e iscriviti per non perdere le prossime novità direttamente dalla casa del grande fratello.